Un intervento come pochi al mondo a San Gerardo di Monza, nell'ospedale Brianzola, è stata operata in chirurgia toracica una paziente di 64 anni con un solo polmone. L'altro l'era stato asportato in precedenza per un problema di carattere oncologico. Purtroppo la paziente, nel corso dei controlli eseguiti dopo il primo intervento, aveva sviluppato un nuovo tumore sull'unico polmone rimasto. Un'operazione delicata dal momento che l'organo sul quale viene eseguita la resezione è escluso dalla ventilazione per permettere al chirurgo di operare. La difficoltà, perché la paziente aveva solo un polmone, è stata superata grazie al ricorso alla circolazione extracorporea, procedura con la quale il sangue del paziente viene ossigenato da una macchina, mentre il cuore continua a pompare sangue normalmente. Questo consente di garantire l'ossigenazione e la rimozione di anidride carbonica. Un intervento con pochi precedenti al mondo, quello eseguito dal direttore della chirurgia toracica Francesco Petrella e dal suo aiuto Lidia Libretti, con l'assistenza del direttore della cardioreanimazione Gianluigi Redaelli e in collaborazione con i dottori Paolo Calzavacca, Elena Maggioni e Francesca Gallizzi. Nonostante la complessità e la rarità del caso, sottolinea Petrella, ho ritenuto di poter proporre alla paziente una procedura di chirurgia toracica al San Gerardo in completa sicurezza per perseguire il mio risultato oncologico auspicabile. La nostra esperienza nel curare pazienti che necessitano della ventilazione esterna, aggiungere daelli per gestire gli scambi gassosi, ha permesso questo intervento delicato in tutta sicurezza. Le attuali terapie oncologiche disponibili a San Gerardo, specifica Diego Cortinovis, direttore dell'oncologia per il tumore polmonare, hanno reso questa patologia precedentemente incurabile, una malattia guaribile anche in stadi relativamente avanzati.